Un altro modo invece per far giocare un pochino i bimbi piccoli è questo. Si va sul sito che si chiama ABCIA, è un sito gratuito, per poter fare qualche giochino non è nemmeno necessario fare il login. È vero, è tutto in inglese, però si può stare accanto ai bambini oppure per chi ha già imparato qualche parolina può essere un'ottima occasione per ripassare. In questo caso io scrivo, ecco qua, e trovo quello che mi serve. Clicco, scelgo. Ovviamente non avendo fatto la registrazione, devo togliere, potrebbe capitare anche a voi, la d-block e ricaricare la pagina. È una questione di tre secondi proprio. Benissimo, allora sono sul sito. Ecco fatto. Allora io scelgo l'uovo che voglio decorare. Dopodiché ho queste tavolozze che posso utilizzare. Questa è la tavolozza dei colori. Qui scelgo la grandezza del mio pennello. Come vedete è molto molto semplice. Ok. Poi ho degli sticker. Gli sticker non è sufficiente cliccarli. Li devo trascinare nel posto in cui voglio metterli. Ok. E poi posso ovviamente inserire anche delle lettere. Anche qui basta scorrere e poi trascinare la lettera che mi interessa. Quando abbiamo finito si prosegue e si inserisce la sorpresa. Anche qua si trascina, si lascia e poi si nasconde l'uovo. Basta cliccare un punto e l'uovo verrà nascosto. Il giochino è pronto. Cosa voglio fare? O ne preparo un altro e quindi posso nascondere poi tante uova in tanti luoghi diversi oppure inizio il gioco. E qui devo cliccare. Ecco qua. Ho trovato il mio uovo che si aprirà e mi farà vedere la sorpresa. Per carità è un gioco semplicissimo che potrebbe fare anche qualche fratello maggiore per qualche fratellino piccolo. Buona Pasqua a tutti!